Sta finendo in questi giorni la raccolta di uno dei frutti più gustosi e comuni sulle nostre tavole durante il periodo estivo. Stiamo parlando delle susine damaschine, meglio conosciute come ramassin. Quest'anno la produzione in granda ha registrato un minimo storico che ha portato a delle quotazioni più elevate. Tra le zone storicamente più vocate per la loro coltivazione nel Saluzzese siamo andati a Piasco nei fruttetti dell'azienda agricola Jurset per scoprire qualcosa di più su questo frutto dolce e tanto amato. Questo frutto arriva da tempi molto lontani grazie all'invasione dei saraceni nelle nostre vallate e questa pianta si è adattata ottimamente al nostro areale. È molto rustica, molto facile da gestire, facile da coltivare. Infatti si utilizzava sempre ai bordi dei campi, dei fruttetti, per l'alimentazione delle famiglie, per le composte, le marmellate e i succhi. E poi è entrata proprio vivamente nel mercato della vendita all'ingrosso. Questa è una pianta autotona, no? Mi dicevi, spiegaci un pochino le particolarità del frutto qui del ramassin del Saluzzese. È un frutto piccolino, è un frutto che non viene di grandi dimensioni ed è forse la sua caratteristica migliore. La cosa più interessante è che si toglie bene il nocciolo dentro, quindi è adatta per fare le albarelle, fare le composte. E un'altra caratteristica fondamentale del ramassin è che è pronto per la raccolta quando cade dalla pianta. Infatti è molto buono perché l'agricoltore capisce subito, immediatamente, quando il ramassin è pronto, perché cade da solo dentro le retti. La raccolta viene proprio così svuotando? Svuotando queste retti, sì. E si vendono direttamente al mercato, al supermercato, all'ingrosso, direttamente dentro queste cassettine. Ecco, la raccolta viene in questo modo qua, con un cestino grosso raccogliamo direttamente dalle retti, togliamo le foglie e poi andiamo a riempire i cestini. I cestini che dopo al magazzino verranno legalizzati nei 500 grammi e viene distribuito soprattutto nei supermercati piemontesi e liguri, dove il mercato è più riconosciuto e c'è più richiesta. Oltre al consumo fresco, da tavola, a fine pasto, avete anche altre richieste? Sì, noi tutti gli anni forniamo un'industria su in Germania che loro lo usano per fare la grappa, perché dicono che è l'unica susina che riesce a trasmettere un aroma talmente importante che la usano per le basi delle altre grappe alla susina. Sì, perché poi è molto profumata. È profumatissima, lascia proprio il gusto. Difatti i clienti quando vengono nel magazzino, entrano nel magazzino e sentono proprio questo profumo intensissimo di ramassini. Voi quanti ettari avete? Noi abbiamo una superficie di due ettari di ramassini, pure di ramassini. Ne produciamo all'incirca un migliaio di quintali. Voi siete in raccolta in questo momento anche per gli altri? Da fine luglio, inizio agosto. Abbiamo più o meno quel dal 15 al 15 di agosto. Il 15 luglio, 15 agosto. Perché noi qua, essendo in Val Varaita, siamo un po' più alti di quota. Quindi noi iniziamo la raccolta quando la pianura del Saluzzese, Pagno, che è la zona proprio tipica del ramassini, finisce. Noi iniziamo. Noi iniziamo. Noi iniziamo.